Nel cuore della Motor Valley nasce un appuntamento dedicato al mondo delle moto d'epoca, il 29 e 30 marzo a Modena Fiera e prima edizione di Moto Exhibition, una due giorni dedicata ad espositori e appassionati. Una mostra a mercato che si estenderà su 35 mila metri quadrati. Nei tre padiglioni della Fiera ci saranno esposizioni dedicate a moto da cross, enduro, moto stradali e da competizione, ma anche vespe e lambrette, poi modellismo, accessori, oggettistiche e abbigliamento. È una cosa nuova, è un investimento importante, l'esperienza che c'è a Auto Motoblade, che in questi giorni, ma proprio oggi viene inaugurata a Bologna, ci fa ben sperare che possa essere un evento importante all'interno di un territorio che è quello della Motor Valley, dove sicuramente Modena è una perla che va valorizzata. La Fiera delle Moto d'epoca Moto Exhibition sarà anche un'occasione di rilancio per il quartiere fieristico modenese. Come abbiamo sempre detto, non c'è nessuna volontà da parte di Bologna Fiere di chiudere a Modena Fiere. Noi ci crediamo e quindi stiamo cercando di rilanciare. È chiaro che il quartiere è quello che è, le dimensioni sono quelle che sono e quindi alcune fiere crescono e non ci stanno più. Però può essere un buon incubatorio o un buon luogo dove continuare a fare delle fiere importanti, importanti per il territorio e importanti come questa che dovrebbe diventare anche una fiera di carattere internazionale.